Si è conclusa oltre la mezzanotte la seduta del Consiglio regionale che ha approvato una variazione di bilancio di circa 6 milioni di euro. Recuperati fondi per l'Istituto Braga di Teramo, per gli eventi culturali, il Teatro Maruccino di Chieti, l'Istituzione Sinfonica e il Teatro Stabile d'Abruzzo. 220 mila euro andranno invece alla marineria pescarese per i disagi legati ai ritardi nel dragaggio del porto canale. Un milione al Fondo regionale di protezione civile e un milione e novecentomila per integrare le spese di funzionamento del Consiglio regionale. Le risorse sono state reperite attraverso una riduzione dell'accantonamento relativo al contenziosoria in corso con il lepp personale della Regione. E' soddisfatto il consigliere regionale Luca Ricciuti. Sì, le istituzioni culturali con le quali ci eravamo impegnati a un intervento ulteriore dopo la finanziaria credo abbiano ottenuto in buona parte quello che chiedevano. Credo corretto l'intervento che è stato fatto sia a favore del Teatro Stabile che dell'Istituzione Sinfonica, il rifinanziamento della legge 5 sulla prosa e sulla legge 15 per le attività musicali. Di più si può fare sicuramente, bisogna reperire le risorse, bisognerà sistemare anche poi la partita sulla RIA, quindi da dove abbiamo preso i soldi. Però l'importante oggi era dare un segnale definitivo, almeno per questa annualità, a chi nelle attività culturali partecipa poi ai fondi del FUS, ai fondi statali. E questo chiaramente significa anche qualità della produzione culturale. Si è tenuta soprattutto d'occhio la qualità delle produzioni culturali e credo che sia stato fatto un intervento quantomeno doveroso e corretto.